Esplode la rabbia dei Roma a Mondragone in provincia di Caserta. Dopo l'ordinanza di quarantena della regione campagna, Roma-Bulgari che vivono nei palazzi ex Cirio, dove si registrano 43 positivi al Covid-19, protestano. Chiedono di poter uscire per guadagnarsi da vivere come braccianti agricoli. 200 residenti di Mondragone intervengono per chiedere rispetto della zona rossa. Volano sedie e pietre. Devono intervenire polizie e carabinieri, in arrivo anche l'esercito. La tensione tra Roma e italiane alle stelle, un agente, resta ferito. Le nusprunate se ne sono andate. E noi siamo stonzi italiani che stiamo chiusi in casa. Per tutta la giornata Mondragone ha vissuto l'allarme virus. L'unità di crisi della regione campagna ha fatto sapere che alle ore 18 del 25 giugno i tamponi esaminati da inizio screening sabato scorso sono stati 728 e i positivi risultano appunto 43. 19 di loro sono stati ricoverati al Covid-19. Il Covid-19 ospitale di Maddaloni. Su Mondragone abbiamo agito in tempi immediati, commenta il presidente della campagna, Vincenzo De Luca.